e benvenuti amici della legge italica quale siamo le ore che vi parla e oggi torniamo su total world warhammer 3 la pace 1.1 è uscita dopo un sacco di mesi che la stavamo aspettando ha portato un sacco di cambiamenti specialmente alla campagna e sono qua per provarla di tutte le fazioni che sono presenti in total world warhammer 3 quella che sinceramente mi è piaciuta di più è katai io sono un grande fan dell'oriente anche se mi oriento di più al giappone che ad altro ma comunque gran katai per come è fatta quali sono le sue ideologie anche il fatto che magari un esercito più carino e coccoloso da fare è quella che alla fin fine mi ha mi ha preso di più oggi siamo qua per provare la campagna di zaoming non ho la minima idea di quanti episodi avrà questa campagna anche perché è abbastanza lunga la campagna total world warhammer 3 proverò a portarla fino al termine anche se chi mi conosce sa benissimo che io e portare a termine le campagne non siamo la stessa cosa ma è nella vita mi dispiace tantissimo ragazzi per tutte le volte che che dovete sopportare me che comincio una campagna e poi non la finisco penso di averne finite tre sul canale averne iniziate almeno sei o sette il gioco è in italiano per per la maggior parte a parte un qualche un qualche discorso e lo che del genere andiamo a vedere le nostre i nostri bonus di fazione siamo i signori delle province occidentali e quindi abbiamo più 20 per cento di capacità di trasporto per le nostre carovane un bonus di grado più 5 per gli alchimisti che verranno reclutati e un mantenimento ridotto del 25 per cento per tutte le unità di ogre mercenari oltre un aumento dell'armatura per l'unità da corpo a corpo quindi davvero non male poi la sua fazione quindi i bonus della fazione che possono essere visti qua no sono proprio gli stessi poi zaoming ha come tratto il signore dei devoti giada che aumenta la probabilità che compagnano degli oggetti magici e questo con il cambiamento agli oggetti magici è ottimo e un mantenimento ridotto per l'unità da corpo a corpo nell'esercito del lord partiamo con il porto di aniu che non ha un porto non può costruire un porto perché signori non lo so un edificio inutile che distruggeremo appena avremo la città delle scimmie o jenwu ma andiamo subito a vedere che cosa possiamo fare partiamo con più 3 di armonia in yin yang quindi direi che andiamo subito con una ricerca yin che così ci porterà più 2 possiamo andare alla nostra prima carovana mi piacerebbe che ste robe venissero tolte allora la prima carovana che abbiamo a disposizione non è male devo dire la verità vediamo se l'altra carovana che può essere mandata anche no quindi manderemo il nostro pingipan che appunto ha una capacità delle carovane aumentate la prima destinazione per cui vado sempre è la terra dei von karstein la sylvania per il semplice fatto che la lama unica che ci verrà data sarà incredibilmente utile per tutto quello che dovremo fare allora poi al porto di aniu probabilmente vogliamo costruire qualcosa per restaurare lo yin e quindi direi che facciamo una sala del tè che ci dà crescita che così potremo sviluppare più velocemente le nostre province e il campo di addestramento sinceramente ragazzi me lo tengo solo per il primo turno perché poi a jenwu non ne avremo bisogno zaoming è un lord che a me piace tantissimo qua facciamo la vittoria automatica senza problemi ci prendiamo subito lo scudo stregato non male qua ci prendiamo il bell replenishment abbiamo un alchimista che viene reclutato e vediamo se sarà yin o yang vediamo questo alchimista è yin perfetto quindi adesso il nostro yang è a 2 con questo passa ad 1 e con questo andrà a 0 proprio perfetto lo mettiamo fatemi vedere un attimo qual è il suo tratto violento bonus di carica maggiore forza dell'arma maggiore non male non male e lo mettiamo subito nell'esercito di jaoming perché più alchimisti più maghi abbiamo negli eserciti del gran katei katai più forti saranno le nostre magie e questa è una cosa che a me piace tantissimo poi visto che abbiamo già tre unità di arcieri popolani io ne recluterai una quarta e un'unità di guerrieri di jada in questo modo sfruttiamo il campo di addestramento che poi demoliremo perché il nostro prossimo punto di espressione è shenwu e poi la città delle scimmie proprio dritto per dritto direi che non c'è più niente a fare passiamo il turno datemi un attimo che qua tolgo tutte le robe inutili quindi sostanzialmente disattivo la visuale del movimento per tutti gli eroi nel passaggio del turno perché ragazzi a volte davvero è incredibile abbiamo reclutato due nuove unità quindi ci viene data mille di oro e inoltre abbiamo anche un nuovo compito quello di conquistare jenwu che spero penso e immagino sia una città scaven vittoria decisiva con perdite basse non penso che avremo bisogno di combatterla manualmente e la fortuna vuole che madonna con calma qui ci sia un altro campo di addestramento quindi la nostra emolizione del campo di addestramento qua non comporta nessun malus perché ce l'abbiamo già qua se vi state chiedendo perché lo stia demolendo è perché questo è un edificio che arriva al massimo a livello 3 quindi è giusto da costruire in un insediamento secondario zaoming ha preso due livelli direi che facciamo subito tracciatore e poi piega della ruggine voglio arrivare a potenziare il soffio del drago al massimo perché è eccellente come come magia direi che per il resto qua abbiamo fatto tutto quello che dovevano fare passiamo al giorno vorrei arrivare a prendere shang yang prima di mia o ying perché mia o ying ha un po di problemi lì a nord quindi spero che non arriverà a romperci le balle ma abbiamo un incontro con la carovana possiamo scegliere se avere tre balestrieri o due guerrieri di giada con la barde direi che il nostro compartimento a tiro è già composto a quattro unità quindi prendere due fratelli di spada guerrieri con la barda è meglio ok qua al porto adesso direi che non costruiamo niente per intaccare con lo yin o lo yan e quindi facciamo le fucine e cominciamo a muoverci verso il nord verso la città delle scimmie possibilmente dentro ai nostri territori grazie ci mettiamo anche in modalità in canalamento o reclutiamo abbiamo abbastanza soldi per reclutare pure la mamma degli scaven che stiamo per andare a combattere quindi va bene così va bene così ok reclutando 20 unità otterremo lo standard di nangao che non è male e abbiamo appena aumentato il nostro surplus di popolazione quindi direi che costruiamo la città qua il nostro alchimista ha appena preso un bolus quindi aumentiamo la mobilità e andiamo alla città delle scimmie dovrebbe essere un altro attore sol facile e per fortuna sarà così anche perché almeno all'inizio questa cosa non sarà un gran problema e abbiamo ottenuto il completo controllo della provincia abbiamo ottenuto altre cose adesso andiamo anche a fare un madonna dovunque avevano costruito le strutture per reclutare direi che soffio del drago anche se ferro protettivo sarà molto utile e andiamo a dare un'occhiata a tutti gli oggetti che abbiamo ottenuto ok abbiamo scudo stregato armatura del coraggioso che direi che fondiamo per avere frammento di fauci non male aumenta la maestria degli incantesimi quindi quanto danno fanno gli incantesimi ma ci causa anche dei danni e poi possiamo fondere la pozione della velocità e della temerarietà per ottenere la magnetità ossidiana ragazzi questa è pessima direi che preferisco la pergamena del potere non mi piace auto infliggermi danno almeno non con katai possiamo fare il il primo decreto che sarà direi aumentare il controllo perché al momento è basso e diminuire la probabilità che la peste si diffonda metti che un orgolo arrivi da qualche parte qua non è mai male questa cosa dopodiché sto pensando che andrò all'altare dell'alchimista shang yang poi una volta arrivato a shang yang sono abbastanza sicuro che mia o ying anche se prende nan li non andrà giù alla torre di ashishar e quindi potremmo poi salire a tai zu e far fuori gli scaven direttamente questo è il il trend dopodiché dovremmo dirigerci qua a sud a qui ang per avere far fuori quelli della vipra blu allora andiamo a vedere con chi possiamo commerciare allora al momento katai è in una guerra civile come potete vedere i custodi di jada che sono quelli al nostro nord est sono a guerra con in guerra con i lealisti celesti che sono quelli che controllano le province qua nord e commerciano con i nomadi del vento ardente che sono quelli al nostro est ora pardon ecco sono questi qua nelle terre spaccate di tian li possiamo quindi decidere se allearci con guardiani imperiali mia o ying e l'altra provincia qua nord i lealisti celesti oppure con le province del sud in realtà perché anche se sono alla nostra destra questo è il sud e direi che il nostro il nostro interesse andrà a chi ci fornisce più soldi anche se davvero non ce ne da niente nessuno a partiamo già con un tratto di non aggressione quindi direi che andiamo con le province dell'est anche se sinceramente visto che si tratta solo di commercio cerchiamo di prendere più soldi possibile e commerciare con più gente possibile esatto e ora come potete vedere i nostri income sono saliti abbastanza adesso facciamo 288 al commercio addirittura quindi una qualche unità in più ce la potremmo permettere anche se non siamo mai andati in rischio di non poterci permettere delle unità e vediamo perché qua qua sud qui anche dovremmo starci attenti il mio obiettivo sarebbe confederare almeno questi qua ad est e poi dopo praticamente comprarmi il resto di catai ma vediamo se riusciremo a fare questa cosa direi che non possiamo più costruire niente quindi per il nostro turno 4 la cosa è finita e abbiamo una un altro incontro con la carovana dove possiamo far unire un cacciatore ogre alla nostra carovana direi che un eroe specialmente forte come questo è sempre utile e adesso abbiamo un'armonia equilibrata di conseguenza tutti i bonus di catai ovvero entrate derivata agli edifici per yang e yin di tutti i nostri edifici crescita aumentata costi costruzioni diminuiti si applicano e direi che è una cosa estremamente bella e possiamo anche cambiare l'editto con l'editto del dragon marino che ci dà più 5 per cento di tasse da dal commercio esatto no non voglio rinominare la città delle scimmie anche se sarebbe interessante se qualcuno ha dei nomi da proporre per rinominare la città delle scimmie e jenvu me lo faccia sapere senza problemi direi che andiamo ad attaccare l'altare dell'alchimista assolutamente sì abbiamo quindi una vittoria decisiva con perdite basse ma tra queste perdite ci sono due popolani con lance lunghe quindi direi che la combattiamo non dovrebbe prendere tanto tempo ma proprio per niente quindi ci vediamo sul campo di battaglia ed eccoci tornati dovremmo stare registrando sì assolutamente sì ricominciamo con lo schieramento come potete vedere xiaoming è qua presente sempre più feroce aspettate che togliamo i contorni che così possiamo vederci il nostro xiaoming in tutta la sua gloria non male devo dire i modelli sono sono fatti abbastanza carini e coccolosi mi non mi piace che quando zoom zoom dentro c'è sempre un calo di fps clamorosi ma è solamente quando zoom proprio con il tasto n per il resto non ho grandi problemi con guerra 3 so che a molta gente ha dato problemi quindi mi dispiace moltissimo per voi piccolo trick togliete l'attacco informazione se state giocando con gran katai perché è un'abilità completamente inutile che riduce il la quantità di danni che le vostre unità possono fare e le fa addirittura perdere le battaglie più velocemente quindi davvero lasciamo stare adesso cosa vogliamo fare vogliamo dove vogliamo attaccare perché potremmo salire da qua ma poi verremo murati mica male stesso dicasi per arrivare da qua anche se anche se anche se no io preferisco attaccare qua al centro ci sono c'è una sola postazione dove possono costruire la torre e abbiamo i long ma apposta per quello quindi attacchiamo da dove siamo messi ora long ma vanno qua arcieri all'attacco e avanti anche con tutto il resto vediamo di chiudere questo grazie anzi scusate io vado con i contorni ma perché pvp servono e i nostri rocket battery dovrebbero sparare a breve vi prego sparare olè partono i colpi vai no 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 danni che ci stiamo auto infliggendo solamente noi lo sappiamo eh vabbè ritiriamo i long ma e voi attaccate la torre che dovrebbe andare giù esatto senza grandi problemi adesso voi andate tutti su di questi e possiamo utilizzare il soffio del drago overcastato voglio usarlo sui guerrieri di giada o sugli arcieri popolani tantissimo sugli arcieri popolani vedrete quanto danno fa dai dai dovrebbe in linea puramente indicativa circa one shotarli one shotati letteralmente bilanciamento dove trovarlo a me piace tantissimo quella magia quindi vi prego creative assembly non nerfatela mai intanto che i nostri qua uh i razzi che male che fanno i razzi che male che fanno ci sono unità deboli che possono essere attaccate senza problemi dai nostri cavalieri su long ma ne dubito fortemente e qua sarebbe anche meglio non far sparare le nostre rocket battery perché stanno facendo più danni della peste a noi però danni danni signori penso che qua siano tutte unità di fanterie sì tutte fanterie quindi direi che possiamo avanzare tranquillamente e prendere il punto centrale già che ci siamo ok qua stanno andando in rotta qua sta arrivando la cavalleria nemica che va benissimo portiamo qua questo fianco destro non mi interessa per niente vado sul sinistro dove c'è l'edificio chiave del punto cattura e voglio utilizzare il soffio fa una quantità di danni in mane e lo amo proprio per questo direi che possiamo anche far avanzare le nostre rocket battery e i nostri lanceri che erano rimasti un po' indietro e popolani a cavallo andiamo ad attaccarli dai qua andiamo a prendere ok sì esatto i popolani a cavallo hanno visto che le mie unità stavano arrivando e quindi hanno deciso di caricarle dentro ma i nostri longman dovrebbero farne un bel lavoro anche se qua c'è zao ming che sta combattendo alla kamehameha ok dovrebbero essere morti per la maggior parte i nemici sì direi che sono morti quindi mandiamo le nostre unità di fanteria a conquistare questo posto mentre i longman vanno qua hanno utilizzato la convergenza armonica poveri loro ok continuiamo ad avanzare verso il centro qua cos'è stato costruito ah un monumento che aumenta la difesa e la disciplina delle unità nemiche vicine ma va bene così cosa sta facendo questo ah lui si muove così adesso è andato a dargli i calci in faccia non ci credo non gli ha fatto neanche danno ok direi che potete attaccare anche questi guerrieri di jada combattimento tra i due dovrebbe andare parecchio in vantaggio di zao ming e direi che qua continuiamo ad attaccare sta zona no si sono staccate le nostre batterie rocke battery dai dai punti va bene così adesso le abbiamo riattaccate no dai riattaccatevi oh l'hanno rifatto la torre maledetti ok abbiamo conquistato il centro perché non vi riattaccate grazie 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 a dio ah qua sono usciti dalle fortificazioni quindi possiamo fare così prendere i longma che di sicuro sono in culonia non far niente si è dato stavano combattendo contro nulla li mandiamo qua per una carica nelle retrovie qua i nostri i nostri lanceri stanno combattendo contro i loro e direi che lasciamo le nostre quattro unità di fanteria a attaccare il loro alchimista i danni e xiaomingo che abbiamo appena trasformato in drago appena si potrà muovere eccolo qua lo portiamo qua vicino e one shotiamo quest'unità di popolani con lanci lunghe ancora esattamente che che pulsante sto sto premendo per fargli levare l'artiglieria non lo so ok questi ora possono avanzare verso questo punto qua e direi che gli arcieri gli facciamo conquistare questo punto cattura xiaoming adesso no 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 esatto esatto e abbiamo vinto senza perdere l'albonità di paesani come voleva il gioco ci vediamo sulla campagna ed eccoci tornati abbiamo preso 650 di oro un po' di esperienza e l'armatura d'acciaio argentato che non è male userei dire occupiamo l'altare dell'alchimista e ora dobbiamo prepararci perché assediare shang yang non sarà una cosa semplice e per la sedia di shang yang voglio portarmi più un'unità di popolani con lancia lunga e un'unità di arcieri popolani in più inoltre il soffio del drago lo potenziamo ancora e qua all'altare dell'alchimista direi che distruggiamo il mercato perché come potete vedere sta portando il bilanciamento al di fuori della situazione e bilancieremo tutto una volta che avremo shang yang altare dell'alchimista e tai zu e ora costruiremo strutture neutrali voglio andare verso la maestria armonica yin che ci dà più entrate dalle città questa sarà molto importante perché il 10% non è male inoltre potremo prendere alcuni standard mica male è molto è estremamente interessante questa questo tech tree di katai perché ti costringe a fare scelte che sono subottimali per mantenere l'armonia ed è una cosa che amo tantissimo poi per la bussola bujin visto che non abbiamo tanti nemici nelle vicinanze il grande bastione non mi interessa farlo però lago celeste che aumenta la crescita le entrate degli edifici e la probabilità che i eventi e la magia aumentino mi piace tantissimo il deserto di war pietra è tipo lo shit button nel senso quando hai dei nemici molto forti nelle tue zone usi questo questo qua ti serve se stai controllando il bastione oppure se stai combattendo tanto di fila e noi al momento non stiamo combattendo tanto di fila anche se può sembrare prendiamo metallurgia incantata perché quelli che combattono tanto sono quelli qua sul bastione e probabilmente prima o poi li confedereremo spero però intanto dobbiamo prepararci a prendere shang yang che ha delle unità di celestial dragon guard che saranno estremamente difficili da buttare giù quindi penso penso che ve lo dico dopo perché ora dobbiamo fare una scelta direi che prendiamo i guerrieri da tiro e abbiamo preso un elisir della potenza dell'alchimista che aumenta l'attacco corpo a corpo di 40 per una volta e lo diamo a chi se non al nostro alchimista a cui possiamo dare anche il frammento di fauci no dai non glielo diamo tu rimarrai nell'oscurità il fatto è che dobbiamo prendere velocemente shang yang perché a tai zu sono sicuro al 100% che ci sia almeno un esercito full scaven quindi magari posso permettermi di perdere l'attore dell'alchimista ma vorrei evitarmelo se possibile eccoli qua i realisti celesti o qualcosa del genere e mi da una sconfitta onorevole sostanzialmente un 20 stack contro un 20 stack però visto che abbiamo 11 di forza lavoro direi che costruiamo aspettiamo 2 o 3 turni costruiamo delle torri in modo a poter sbarcare con le nostre unità sulle mura senza grandi problemi e qua la torre dell'alchimista costruirei la pelliccia ma non vorrei essere attaccato da tai zu è molto improbabile che attacchino la città delle scimmie perché 1 ha la guarnigione un po' più in vita e 2 non c'è una strada che li collega direttamente quindi l'altare dell'alchimista posso perderlo anche perché miaoying al turno 6 non è ancora arrivata nanli si direi che posso permettermelo posso permettermelo ok cosa stai richiedendo un patto in un'aggressione mi paghi anche va benissimo però mi paghi 239 ok la minaccia al grande bastione è in aumento e se costruiremo 3 edifici che contribuiscano all'armonia nel kataichi verrà data la pergamena dell'astromanzia costi di eventi della magia meno 10% per gli incantesimi potenziati probabilità minima di incidenti di lancio meno 15% questa la voglio tantissimo per il bastione non ci possiamo fare niente perché non lo controlliamo noi abbiamo incontrato il lulaluna che sono dall'altra parte del mondo ma ping jipan della nostra caravana è di vicino quindi li ha scoperti e xiaoming sta iniziando a dargli un po' di attrito jenvu è arrivata al grado 2 come città e direi che visto che non ci hanno attaccato subito no più che altro visto che tra due turni ricerchiamo questa qua dello yin a jenvu costruiamo l'edificio che ci dà i soldi dello yang in questo modo saremo fuori bilanciamento per un turno però il turno dopo recuperiamo subito che sarà anche il turno in cui attaccheremo shang yang in questo modo avremo l'evocazione dei guerrieri esatto l'armonia dello yang sta aumentando ma il prossimo turno no yin tornerà supremo e adesso alla città delle scimmie possiamo costruire qualcosa direi che visto che la città delle scimmie è molto vicina a tai zu potremo costruire i muri però non penso sia necessario quindi aspetto un turno a costruire la città delle scimmie se prendiamo shang yang senza perdere l'altare dell'alchimista appena porto xiaoming all'altare dell'alchimista costruisco un edificio sia alla città delle scimmie che all'altare dell'alchimista e dovremo essere a posto in linea puramente teorica in linea puramente teorica se avete nomi per l'alchimista datemeli tutti qua possiamo decidere se dargli del carico per aumentare i nostri rapporti problematici o sguainare le armi la nostra armata è tipo quattro volte la loro quindi addio ogre e ci prendiamo anche delle unità reintegrate appunto come vi avevo detto l'armonia è equilibrata e ora è il momento che stavamo aspettando per intanto portare il porto di agnu a livello 3 scegliere la prossima tecnologia che sarà la maestria armonica yin che dovremo tenere in considerazione aumentare qua il nostro alchimista se avete un nome per champagne ditemelo che vediamo di implementarlo e possiamo risolverla automaticamente oppure combatterla fatemi vedere com'è l'insediamento qua insediamento è bello grande cazzo direi che la dobbiamo combattere perchè voglio andare poi a nord il più velocemente possibile quindi dobbiamo provare a fare una qualche azione tattica molto sneaky per esempio magari schierare tutte le nostre unità a destra e tipo l'alchimista con un paio di guardie a sinistra in questo modo loro si schiereranno tutti a destra poi l'alchimista con il paio di guardie prendono vanno e conquistano uno dei due punti centrali e magari xiaoming a fare da supporto intanto che l'esercito li tiene impegnati in uno dei due punti delle mura si non mi sembra male come come idea adesso adesso ve la faccio vedere giusta come idea e poi dopo la mettiamo in azione sperando di non fallire miseramente allora 18-20 è la magia di partenza non male cavolo allora è completamente simmetrica la zona quindi 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 penso che attaccherò più che altro che queste sono torri perforanti si sono torri che lanciano i razzi perché per chi non lo sapesse al momento c'è un bug sostanzialmente gli edifici più più basso il loro livello cioè le città più basso il loro livello più alto livello delle torri quindi dobbiamo attaccare da un punto dove ci siano meno torri che ci possono sparare possibile e tipo il punto perfetto sarebbe qua ma qua è dove voglio entrare con l'alchimista per andare a prendere l'edificio chiave quindi non possiamo attaccare da qua e dovunque attacchiamo ci sono due torri anche qua però direi che questo è il punto più distante dal sì questo è il punto più distante da dove volevamo andare con il nostro alchimista quindi pick pick voi fate tutti parte in gruppo 5 adesso jaoming va qua e mi servono uno e uno due qua ok questi li tolgo solamente per togliergli l'attacco informazione poi li rimetto dentro e i nostri laceri si prenderanno una mazzata sui denti di quelli incredibili a meno che non li schieriamo tipo qua e poi li facciamo entrare direi che facciamo così ok tu vai qua e dovremmo esserci noi vediamo il gruppo 1 anche di si e continuiamo ad andare vediamo cosa hanno fatto hanno messo dell'unità qua che non possono in nessun modo ok dov'è che arriva oh mio dio no 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 fallita subito perché qua hanno preparato guerrieri di jada guardia del drago celeste e altre robe però possiamo andare qua a sinistra perfetto 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 jaoming tu tra poco prendi la forma di drago e almeno sta attirando il fuoco delle torri ok forma di drago voli dall'altra parte e vedi fare più casino che puoi anzi andiamo ad attaccare stile del drago celeste se abbiamo la possibilità di farlo grazie bloccato ok posso farlo finalmente ci impiega un po' di minuti a capire di essere in forma drago ok possiamo spostarci al massimo qua adesso siamo arrivati qua li facciamo volare per aria il fatto bello è che questi muoiono tutti quando cadono per terra è stupendo avere un drago sulle mura perché tutti questi qua muoiono dritti per dritti cioè non si rialzeranno mai più come potete tranquillamente vedere un drago sulle mura è la cosa più bella che potete avere e abbiamo praticamente liberato le mura da possibili nemici qua vediamo di one shot are questi unità di paesani sono ancora 104 ma loro hanno 700 punti vita tra 104 paesani da dividersi direi che non sono tanti ok questa posizione non sta venendo nemmeno contestata qua i guerrieri di giada stanno arrivando a provare a contestarmi la posizione ok no voi va qua andate qua andate qua ok ci siamo abbiamo conquistato che cosa ok queste torri queste torri qua è inutile che facciamo qualcosa se non scendere si per provare a fare questo vediamo di conquistare le porte il nostro attacco che doveva essere quello secondario è diventato in realtà l'attacco principale perché di si esattamente voi dov'è che state a mettere le vostre scale su ah ok non può non può lanciare la magia perché sta salendo le scale va bene va bene vediamo di uccidere il loro lord magistrato dai sono quasi tentato di fare un'evocazione dei guerrieri ma questi sono sui balestrieri di giada celesti su questi qua sarà molto carina e coccolosa oh guardate che bella con il drago dello spirito che li fa uscire dal suo reame bellissima questa animazione davvero stupenda oh non riusciamo ad ammazzare il lord allora vediamo di fare questa contro un'unità con armatura non fa molti danni purtroppo però abbiamo molte più unità di loro quindi possiamo provare a fare qualcosa direi che jaumig lo facciamo tornare in modalità umano perché così prende meno danni dai balestrieri esatto intanto le nostre unità svormano qua qua sul 5 ok andiamo ad ammazzargli questi guerrieri di giada e per il resto dovremmo essere a posto si qua cerchiamo di intercettare questi popolani con le lance lunghe uh questi sono tornati quelli che avevamo quasi ucciso quindi li uccidiamo ora eh saranno morti in 50 almeno con questo singolo cast ok vediamo di tenerlo bello tranquillo due stanno inseguendo voi combattete contro di questi e anche voi ok qua ci siamo qua hanno abbandonato il murale non ancora vediamo di muovere gli arcieri in modalità sneaky sneaky in questa zona perché altrimenti vengono presi a cannonate e non è la cosa più interessante che mi piacerebbe vedere ecco qua li stiamo facendo fuori abbastanza lentamente quindi vediamo di aiutarci con un po' di magia se ne direi che ha aiutato e penso che andremo a prendere subito questa posizione di rifornimento migliore per poi passare all'edificio chiave anche se i lancieri i lancieri celesti stanno arrivando e non è esattamente la cosa più facile del mondo farli fuori oddio qua dobbiamo splittarci no direi che ci ritiriamo utilizziamo questa per poter andare subito in modalità drago e poi visto che la modalità drago ci porta subito volanti andiamo qua e vediamo di ammazzare almeno una o due di questa unità di arcieri popolanti qua ci stiamo ritirando prendendo un po' più danni del necessario ma va bene così qua come stiamo andando ok li abbiamo messi in fuga direi che avanziamo sul ok sul punto di cattura e se arriva la guardia del drago celeste ci penseremo con il nostro alchimista qua adesso per favore fate una linea bella ordinata così che io possa utilizzare il mio dragon breath su di voi grazie madonna questa unità è morta nove sono rimasti lo amo lo amo sta magia ok direi che ammazziamo il loro magistrato qua abbiamo sapete cosa puntiamo sulle retrovie non ha non ha senso provare a combattere per il controllo delle zone avanzate quando le retrovie sono così scoperte cioè qua ha senso perché non ci sono nemici quindi però 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 manteniamo qua qualche unità giusto per sì ok qua stanno andando abbiamo trovato resistenza se dei guerrieri di giada con alabarde hanno trovato un po' di resistenza e uno e due e tre cancellati completamente cancellati dalla faccia della terra qua però stiamo perdendo prendendo tantissimi danni non so la cosa probabilmente sono le torri sì quindi già un intu andrei a dare una mano ai fantastici qua che stanno andando a prendere la posizione qua ne abbiamo un'altra conquistata dai 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 ok oh adesso abbiamo le mura possiamo portare gli arcieri questo e anche i nostri volanti qua castiamo questo per l'ultima volta cancellati completamente non ha senso sta magia specialmente quando sì perché io adesso sto castando magie ancora più potenti perché ho la padronanza dei venti elementali quindi questa fa ancora più danno 15% più di danno rispetto a quello che dovrebbe fare di base ma madonna ragazzi se è power ma come stiamo andando ah abbiamo capato se andiamo verso la guardia del drago celeste dovremmo riuscire a farlo fuori utilizzando un paio di magie del nostro archivista ok bene e dovremmo farcela qua possiamo iniziare a portare anche le nostre rocket battle in giro tiriamo la nostra cavalleria qua come stiamo andando non male direi che proviamo a sniperare il loro mago che non si sa mai come se utilizziamo una comba abbastanza carina su queste ok ora che stanno ora che stanno caricando gli diamo più 40 di attacco corpo a corpo e inoltre gli aumentiamo anche i danni guardate le statistiche 65 di attacco 34 di forza dell'arma dovrebbero fare dei danni decenti in più ci aggiungiamo anche un piccolo bombardamento e dovremmo essere a posto a meno in quella zona ok qua stiamo avanzando per cappare qua non mi pare che stia andando male ok warrior di giada pa 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 ok destino ardente non sembra aver fatto troppi danni ma proviamo a ricastarlo magari qua anche perché è l'unica cosa con un po' di armor piercing che abbiamo quindi tanto vale provare ad usarlo eh un po' di danno l'ho fatto dai un po' di danno l'ho fatto questi sono in rotta a convergenza armonica capisco capisco la convergenza armonica ok qua l'abbiamo vinta quindi cominciamo a portarci di qua con i longma che vanno a volare lì si tanto qua gli arcieri adesso formeranno una bella conca e sarà tipo impossibile fare fuori cominciamo ad avanzare con la nostra fanteria verso il centro città dobbiamo conquistarlo il più in fretta possibile ce la puoi fare ce la puoi fare hai bisogno che ti butti ok qua sembra che l'abbiamo vinta si grazie a dio termina battaglia vittoria decisiva e sono la bellezza di 44 minuti di episodio per ora non sta andando mica male 288 uccisioni da parte di xiaoming così casualmente in maniera proprio senza neanche battere ciglio e direi che abbiamo conquistato la città senza grandi perdite 188 quindi circa un'unità di paesani in totale in tutto il nostro esercito non male non male quali sono le tattiche che usate voi invece per per conquistare gli insediamenti fatemelo sapere nei commenti perché è un è un metodo tutto nuovo di uh la moneta di jada la moneta di jada raga abbiamo vinto la campagna abbiamo vinto la campagna c'è ancora il bug dei venti della magia infinita quindi questo è tipo continuerò ad avere i venti della magia infinita per sempre abbiamo appena vinto la campagna con sto cosa se overcast il soffio del drago fa tipo 10 venti della magia ne recupero 8 una roba del genere poi prendiamo il muro di vento di fuoco due volte no una sola volta perché voglio anche il ferro protettivo tecom va tutto bene solo che non so cosa darti per ora direi incantata metallurgia incantata del veleno e a shen yang visto che qua abbiamo quello dell'entroidi yang qua facciamo quello della crescita yin e poi portiamo shen yang al livello 2 ok dovremmo essere a posto ah giusto la città delle scimmie quindi con questo andiamo a yang 1 quindi bisogna costruire qualcosa di yin e direi che costruiremo il mercato ok la nostra carovana combattuta questo è il solito ping jipan abbiamo un punto di abilità direi che gli diamo le bilancie migliorate così quando arriva in silvania e pare esserci estremamente vicino potrà vendere le cose a un prezzo maggiore e vediamo cosa vuole mia sorella che non ha ancora conquistato la provincia la sua provincia di base un transito militare no per ora non te lo concedo i signori dissidenti di jinsen hanno reclutato un lord e arrivano gli scaven oh sneakage un sneak e abbiamo ottenuto anche la pergamena oddio se la pergamena si la pergamena può essere utilizzata raga abbiamo appena vinto la campagna parte 2 perché togliamo la pergamena del protere e mettiamo quella dell'astromanzia in questo modo spendiamo ancora di meno per gli incantesimi potenziati e recuperiamo 20 della magia è fantastica è una combo fantastica frammenti delle fauci sinceramente penso che al momento non ci serva per niente e andiamo a difendere l'altare dell'alchimia visto che qua a shang yang abbiamo delle mura quindi loro non ci possono attaccare al turno 1 esatto comunque notate come allora i ratti notturni per snitch in warhammer 2 sarebbero armor piercing invece qua non lo sono quindi tipo non hanno ne ancora implementato le meccaniche uniche della fazione c'è solamente il lord leggendario che probabilmente non può neanche prendere tutti i suoi item e basta finita lì allora per la città delle scimmie qua adesso costruiamo come mai siamo andati a finire in armonia yin stiamo ricercando un'altra roba dello yin male male ma neanche troppo perché qua al porto di anju semplicemente in due turni al posto del giardino della contemplazione avremo il deposito delle impalcature di bambù quindi ci sposterà due verso lo yang ma in tre turni avremo quello quindi credetemi sono un ingegnere tra tre turni saremo in bilancio qua snitch si ritira e sarà molto interessante prendere tai zuora carovana completata abbiamo venduto 1200 di merci per 6000 di oro e abbiamo ottenuto la lama demon carstein che è un'ottima lama da dare a uno shugangan che sta difendendo il bastione quindi la teniamo in considerazione dobbiamo inviare un'altra carovana e non ce n'è una decente tra le due non ce n'è una decente tra le due prendo questa solamente perché è un artigiano e quindi tutte le unità di fanteria da tiro avranno una portata maggiore potendo non ne sceglierei nessuna e non mi fido nemmeno a mandarla a fare viaggi troppo lunghi perché fa davvero schifio quindi direi che impostiamo la rotta della carovana verso qua se se speriamo che le lanterne volanti non facciano troppo schifo ok qua possiamo migliorare Nan Li è ancora nelle mani nei ribelli secondo me a momenti mi perdo Miaoying che viene massacrata da qualcuno no è più forte di me al momento è a solo una provincia va bene va bene intelligenza artificiale direi che ci spostiamo qua e poi ci mettiamo in modalità accampamento perché non voglio spostarmi nei territori degli scaven con la possibilità di venire imboscato malamente dimmi che non sei della rovina sei della rovina odio fulmine warp come magia ragazzi fa davvero tanto tanto male fa davvero tanto tanto male vabbè proveremo a sniperarlo subito con xiaoming perché altrimenti non non ce la faremo mai nella vita allora direi che aumentiamo la capacità di trasporto questa è la nostra carovana sempre il nostro pingipan e gli diamo le riserve nascoste così comincia a recuperarsi in modo che al prossimo viaggio della carovana dovremmo essere a posto transito militare ma dove perché e quando che visto che non interessa a nessuno dei due avere un transito militare una fazione che conosciamo è stata distrutta come ho detto dopo due turni la nostra armonia sarebbe andata in uno yang ma adesso si cerca l'armonia yin e quindi prossimo turno che è più o meno quando attaccheremo tai zu voglio che arrivi voglio che arrivi snitch da qualche parte perché secondo me è andato a nord o qua a ovest oppure qua a sud a prendere la città delle scimmie si per fortuna la città delle scimmie è un tier 3 ma direi che dobbiamo reclutare alla svelta uno shugangan possibilmente dello yang e gli diamo il removibile quindi non saremo in armonia il prossimo turno direi proprio di no e gli do due guerrieri di jada balestrieri anche se non penso che faremo in tempo vediamo cosa allora se si decide di tornare indietro va benissimo lo lo levo da qua intanto gli diamo la lama dei buon karstein questo e questo ma se snitch non si dovesse ritirare avremo almeno un lord qua per difenderci facciamo il mercato delle spezie costruiamo e passiamo il turno vediamo cosa decide di fare il buon snitch va per l'altare dell'alchimista addirittura vediamo allora direi che questo lord a sto punto me lo tengo quindi ah maledizione yin provi te è successo l'azione di un euro nemico meno 10% contro gli eserciti yin e ci dà anche più 3 di armonia yin quindi in 4 turni saremo a posto anche se probabilmente tanto prendo assetto quelloniano ok qua prendiamo le scaglie i drago l'armatura è importante vediamo città del scimmia difesa così l'altare dell'alchimista invece no quindi è più probabile che attacchi l'altare dell'alchimista che piccato la città del scimmia si può dipendere più o meno da sola ok wenzu che è quella delle due un po' più protetta facciamo così e a sto punto ci prendiamo tai zu in modo che snitch sia obbligato ad attaccare perché ora lui si ritrova senza città quindi o la città delle scimmie o l'altare dell'alchimista li dovrà attaccare e se li attacca anche se dovesse prendere la città al prossimo turno arriviamo con xiaoming e lo massacriamo mica male mono di fuoco e vento e no vogliamo che l'esercito si muova ancora più veloce intanto 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 vediamo cosa fa il signore della morte snitch ok altare dell'alchimista ci dà una vittoria di misura però sinceramente non voglio mandare un personaggio così importante nonché uno degli unici due con cui ho finito la campagna fuori in questa maniera poco dignitosa con l'auto risolve quindi ci vediamo al prossimo episodio dove ammazzeremo brutalmente il signore della morte snitch ciao a tutti ragazzi